Ciao a tutti, vediamo in questo video quattro frasi magiche per turbare un uomo. In questo video ti insegnerò quattro frasi che puoi usare per generare emotività a un uomo, un turbamento, in modo tale che abbia interesse nel cercarti e nel desiderarti. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo inoltre il seminario online che farò a martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00 per partecipare basta che vai sul canale, sul mio canale Felicità Benessere, selezioni i tastini abbonati, gli stai vicino a tastini iscriviti e selezioni poi seminari online. E veniamo al tema quattro frasi magiche per turbare un uomo. Beh, allora, queste frasi vanno dette, si possono anche scrivere, volendo, però diciamo che utilizzare la comunicazione non verbale nel dirle è molto meglio, soprattutto se uno riesce a dire di persona guardando negli occhi. Però, eventualmente, possono anche essere scritte, perdono un po' dell'effetto non verbale, ma lasciano comunque sempre un po', intrigano sempre un po', lo spingono a fare delle fantasie, insomma. La prima frase va a stimolare quello che è il suo desiderio nascosto, diciamo così, di passività. Dentro ognuno di noi, dentro ogni maschio, diciamo così, dentro ognuno di noi, diciamo, c'è la parte inversa, no? Quella che Jung chiamava anima e animus. C'è una parte femminile che sta nel maschio e una parte maschile che sta nella femmina. Quindi, questa frase detta va a stimolare proprio quella parte e genera un turbamento anche talvolta anche abbastanza forte. Guardandolo negli occhi, oppure anche scrivendo, volendo, la frase che va detta è questa. Lo sai che questa sera invertiremi i ruoli? Ecco, questo genera, va a stimolare proprio la parte nascosta. Anche se, diciamo, a livello logico e razionale non sembra una frase tranquilla, normale, però questa frase, invertiremi i ruoli, va a gratificare la parte nascosta e quindi un turbamento, perché la nostra parte, la parte opposta, è quella non manifesta, ma che è comunque presente ed è anche molto potente all'interno, perché è quell'immagine, quella parte che spesso viene trascurata. E questa frase va a stimolarla notevolmente. Seconda frase è legata all'immaginazione visiva. Allora, gli uomini ragionano molto per vista, cioè sono molti uomini, sono visivi, molto più delle donne, soprattutto per quanto riguarda l'area sentimentale affettiva e l'area passionale. Tendono ad essere prevalentemente visivi. E quindi questa deve essere una frase che va a stimolare proprio le fantasie. Ecco, in questa frase tu devi però aver capito quali sono le fantasie che un uomo può avere. E' importante questo comunque in ogni situazione che tu riesca a capirlo. Ho fatto dei video dove spiego come scoprirlo attraverso il linguaggio non verbale, fare dei test a livello non verbale. Se tu devi cercare, non sono su questo canale, ma sono sia sul canale Massimo Terramasco, alcuni e altri sono sul canale Felicità e Benessere. Comunque devi stimolare l'immaginazione, la sua immaginazione andando a colpire la fantasia ma negandola. Non pensare che io questa sera faccia puntini puntini la fantasia che l'uomo ha. Quindi deve essere al contrario, la negazione, perché deve stimolare fortemente. Quindi è sbagliato dire guarda che stasera faccio. No, non pensare che questa sera faccio, perché il non viene recepito dalla parte logica, ma non viene recepito dalla parte analogica, dalla parte emotiva, che resta molto intrigata da tutto questo. Quindi non pensare che io faccia puntini puntini. La terza frase va a stimolare il suo desiderio di fare. Ecco, questa frase devi dirla quando è un po' di tempo che non vedi una persona, che non vedi un uomo in questo caso e quindi presumibilmente ha voglia di farlo con te. E quindi anche in questo caso quando lui, e devi dirgliela, quando lui ti propone di uscire, questo è fondamentale. E quando ti propone di uscire devi dirgli, beh, se vuoi questa sera ci vediamo, ma comunque niente sesso. E poi lo penalizzi. Tanto devi riposarti un po', l'ultima volta ti ho visto anche abbastanza stanco. Ecco, questa frase va a penalizzare un po' il suo orgoglio di maschio e va comunque a stimolare, dall'altro punto di vista va a stimolare. La negazione anche qua è molto importante perché... perché gli consente di sviluppare fantasie senza che la parte logica possa mettere il bastone tra le ruote. Visto che la parte logica, la negazione la riconosce, ma la parte emotiva non la riconosce. E poi c'è l'ultima frase che è anche questa qua, è molto interessante. La quarta frase. Prima però iscriviti al canale, ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo nuovo canale. Crescita personale con Massimo Tramasco. Clicca anche sulla campanella. È un canale in cui metto energie e penso che possa esserti utile davvero per la tua crescita personale. E poi ti ricordo il seminario online sulla legge di attrazione che sarà martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23 sul canale Felicità Benessere. Per partecipare basta che vai nella home page del canale, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e poi selezioni seminario online. E veniamo alla quarta frase che utilizza sempre l'immaginazione e utilizza una forma di negazione che però è interessante andando a stimolare proprio i recettori passionali invece. È una frase del genere. Guarda, togliti dalla testa oppure togliti dall'immaginazione che tu possa toccarmi, eccitarmi e poi venire a letto con me questa sera. Ecco, o domani, insomma, quello che è. Questa frase, questa è un'altra frase che va da un lato a stimolare e dall'altro a negare. E va a stimolare proprio la componente immaginativa che è quella, ripeto, prevalentemente nei maschi. Ecco, queste quattro frasi vanno a generare quel turbamento, quel coinvolgimento che lo spingerà a vederti e lo spingerà a fare quello che tu gli vieti di fare poi fondamentalmente. Anche lì poi dovrai mettere dei vincoli, degli ostacoli in modo che trovi, diciamo, debba investire, insomma, per ottenere quello. Ed è un modo, questo di queste frasi, per innescare proprio un processo molto utile da questo punto di vista. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!